Musica E' stato festeggiato questa mattina a Carovigno il santo protettore dei vigili urbani San Sebastiano. Alla manifestazione hanno partecipato le autorità civili e religiose del territorio, una manifestazione che ha dato lustro al corpo dei vigili urbani di Carovigno. Durante l'evento il comandante, dottoressa Stefania Urso, ha tracciato un bilancio di tutte le attività che il corpo ha svolto durante l'ultimo anno. Subito dopo, spazio alle premiazioni degli uomini in attività e di tutti quelli che hanno dato lustro ai vigili urbani durante il loro anno di servizio. E' una bella festa, è stata una bella cerimonia veramente toccante, la consegna della pergamena ai vigili in pensione, il riconoscimento dei gradi ai vigili urbani che pur con tante ristrettezze, considerato anche l'esiguo numero, continuano giornalmente a portare sul territorio il rispetto delle regole. Una bella giornata e un bel riconoscimento al comandante, la dottoressa Stefania Urso, che è riuscita a mettere insieme un gruppo sia pur rimanergiato, ma un gruppo di operatori che giornalmente controllano il territorio. Altra cosa di fondamentale importanza, la presenza quest'oggi delle istituzioni forti, la presenza delle istituzioni civili e militari. Il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, il questore, il capitano chiusano della guardia di finanza, tutti quanti presenti sul territorio significa che il nostro territorio è ben controllato, noi ci sentiamo sicuri e sereni, tranquilli, noi dobbiamo dare tranquillità ai nostri cittadini.